Beh, ci fa piacere perché la quinta edizione è un'edizione molto partecipata, oltre a quelle precedenti, anzi ancora di più, e stiamo riscoprendo la passione dei romani per il peperoncino. Io volevo ringraziare la Regione Calabria, nelle persone dell'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo e al direttore del Dipartimento Agricoltura Giacomo Giovinazzo, che hanno valorizzato questa manifestazione in modo molto molto importante e quindi anche grazie a questo interesse della Regione Calabria la manifestazione ha avuto un successo insperato perché veramente il numero dei partecipanti è stato elevatissimo e sono stati molto interessati ai vari eventi che abbiamo organizzato, sia a livello di talk specifici perché hanno partecipato anche esperti universitari, presidenti della dieta mediterranea, dei nutrizionisti in cucina, quindi il peperoncino come portavoce della salute. E questo non fa che bene anche alla Regione Calabria perché una volta di più vengono conosciute le eccellenze di questa Calabria straordinaria. Eh sì, faccio parte ormai di questo mondo da circa dieci anni, quindi con la delegazione romana Ipsi Dixit e con la delegazione nazionale di Diamante. Ho partecipato a sette festival del peperoncino di Diamante vincendo cinque campionati italiani. Nel 2021 ho vinto il campionato europeo e in più ieri sono diventato ambasciatore dell'Accademia Italiana del Peperoncino e ne sono onorato. Beh, intanto oltre che essere doveroso per me è un piacere venire alla festa del peperoncino dell'Accademia Romana. Tonino Bartalotta ha fatto un lavoro straordinario, immaginare di poter realizzare a Roma il festival del peperoncino con gli stand, con un'area dove si fanno dibattiti, cene, dove si fa... Un po' quello che facciamo a Diamante ormai da tanti anni non era immaginabile, quindi lui ha fatto uno straordinario lavoro ed è diventato, di fatto, ma lo è sempre stato ancora prima di essere il presidente dell'Accademia Romana del Peperoncino, un ambasciatore della Calabria e soprattutto della nostra città di Diamante, di cui lui tra l'altro è anche cittadino onorario, a Roma che è la capitale non solo di questo paese ma è la capitale del mondo. Quindi credo che è un tentativo importante riuscito che mette in luce quelli che sono i prodotti di eccellenza della nuova astronomia calabrese ma che dà una mano all'immagine della nostra città. Quindi la mia presenza è una presenza anche come atto di gratitudine per il lavoro che non va soltanto durante queste giornate romane ma che fa durante tutto il corso dell'anno, un'organizzazione che mette in gambo non solo la stendistica ma anche le attività culturali che ci sarà. Tra poco saremo insieme a Francesco Spanò che è direttore del personale della LUIS, domenica ci saranno altre presenze importanti ma ci sono presenze di artisti, di comici, di attori, di uomini della cultura, di uomini dello spettacolo. Significa che questa sezione dell'Accademia Romana è cresciuta molto. Diciamo che quando si vede il Peperoncino nel mondo si pensa ad Enzo Monaco e quando si pensa ad Enzo Monaco si pensa all'Accademia e si pensa a Diamante. Si pensa anche alla Calabria ma nel resto del mondo si pensa all'Italia. Quindi diciamo che il brand del Peperoncino non è più un brand municipalistico, regionale ma è un brand nazionale che ha superato i convini. Io sono stato in Cina per una settimana all'inizio del mese di settembre e mi sono reso conto di quando il Peperoncino, ma non solo per una scelta gastronomica di quel paese ma in generale il Peperoncino italiano, il Peperoncino nazionale nostro è conosciuto per l'Accademia del Peperoncino di Diamante, per quello che ha fatto Enzo in questi anni. Quindi ritengo che è uno dei migliori tentativi di un brand così minuscolo, così piccolo che può significare di essere insignificante ma che poi in realtà non lo è perché dà sapore non solo alla gastronomia ma anche alla cultura. E il libro di Spano va in questa direzione. Recupera la storia del Peperoncino inserendolo anche nella storia culturale, oltre che gastronomica nei quadri, fiamminghi, cioè recupera anche il nostro Peperoncino mettendolo nel contesto di un percorso culturale. Benissimo, abbiamo superato ogni più rosa aspettativa, ancora abbiamo i nostri alberghi pieni grazie alla coda del Peperoncino, quindi ritengo che è un brand importante che deve essere ancora coltivato, deve essere ancora stimolato. Io ringrazio anche la regione per i contributi che ci dà ma credo che bisogna fare di più. Bisogna fare di più per la Calabria, abbiamo avuto una stagione turistica nella nostra città è andata più che bene, in generale in Italia il turismo nazionale ha subito una flessione, lo ha subito soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, l'ha subito anche nella nostra regione. Bisogna rivedere la politica dei prezzi, l'Albania, la Spagna, la Grecia sono competitivi, ma sono competitivi anche Parigi, Madrid, Amsterdam o Berlino, quindi bisogna cominciare a ragionare con un'ottica diversa, se no ci ridurremo anche nelle città d'arte al Mor de Fuge, al turista che arriva, fa tre giorni e se ne va. Se vogliamo invece recuperare i turisti che vengono nel nostro paese e lo vivono nel nostro paese, stando molti più giorni di quelli che in realtà si fermano, ora bisogna fare una politica dei prezzi diversi. Siamo troppo alti con i prezzi, lo dico molto francamente anche perché ho finito il mio corso politico, posso parlare con più chiarezza. Credo che c'è bisogno che le associazioni di categoria, gli assessorati regionali al turismo, il governo nazionale cominciano a ragionare con un'inversione di tendenza rispetto ai prezzi. Lo ripeto, abbiamo in Italia prezzi troppo alti. Per la Calabria abbiamo raccontato con la situazione dei viticoltori vibonesi, abbiamo fatto due degustazioni, una sui bianchi, quindi con la malvasia, il greco bianco è il re, lo zibibbo, un'altra sul magliocco canino, quindi sui rossi di questa zona che si sta affermando. Abbiamo avuto una bellissima partecipazione proprio perché è una zona nuova della Calabria che si sta affermando e che si sta facendo conoscere. La terza degustazione invece è impostata tutta sul magliocco dolce, quindi siamo in l'areale delle terre di Cosenza, un unico vitigno, magliocco dolce, tutti i vini della cantina Spadafora 1915, vinificato in vari modi, dal bianco al dolce al ripasso, con un unico vitigno, un altro grande vitigno di Calabria che è il magliocco dolce, che racconta questa bellissima terra. Ufficialmente il peperoncino da ormai oltre dieci anni è il Carolina Reaper a livello di Guinness World Record e a livello ufficiale. Poi ci sono altre varietà che per campioni che abbiamo qua, tipo Arturo, Francavilla, che loro li mangiano tranquillamente, ci sono altre varietà che sono più piccanti secondo loro, però è una cosa che non è ancora misurata a livello ufficiale. Sono circa 250 varietà quest'anno, quindi è il valore più alto che abbiamo avuto nelle mostre fatte nelle diverse edizioni di Ottobre Piccante. Ci siamo riusciti unendo le diverse varietà, qualcuno l'ho portata io, l'ho portata Giulio, l'ho portata Arturo, l'ho portata Abaneros Farm e altri. Quindi è stata un'unione che ha fatto la forza alla fine. Allora, buon tutto. Il peperoncino è il peperoncino, la parola stessa, è quel pizzicore, quel piccante in più che ti fa, anche nelle situazioni forse un po' così ferme, e ti fa invece esplodere un po' di gioia, un po' di... c'è un po' tutto nel peperoncino, veramente, come in un piatto di pasta, per dire, una semplicissima pasta con il sugo, che magari non è venuta tanto bene il sugo, tu ci metti due, tre pezzi di peperoncino ed è buona sicuramente. Quindi il peperoncino ha un ruolo ed è un'eccellenza italiana, un'eccellenza calabrese in particolare. Io lo adoro da sempre, perché fa anche bene A, vitamina C, tutta una serie di cose. Per cui... poi è anche bello, è una pianta bella, il peperoncino è anche da tenere nei propri giardini, nel proprio balcone, e curarlo con amore come tutto bisogna fare. È bella, è ornamentale, dà gioia, questo frutto poi che viene fuori rosso. Beh, è la passione, no? Qualche scena piccante c'è stata, c'è... Ma poche per quello che riguarda me. E a volte ho addirittura preteso, anche perché ero molto giovane quando ho iniziato, sai, ogni tanto capitava le scene d'amore, come si dice, non chissà cosa. Ma sai, se si ama poi si va un po' oltre, no? E ho avuto anche delle controfigure, perché insomma io ero veramente giovanissima quando ho iniziato. E poi, perché girare le scene cosiddette piccanti, hot, chiamatele come volete, anche nei film di un certo spessore, impegnati, per carità, non è facile, non è facile, è difficile, sia per gli attori che la devono interpretare, fare sia per le riprese, perché c'è sempre quel po' di pudore o di paura di esagerare, oppure di dare un senso di finto. Invece ci sono, perché nella vita, insomma, ogni tanto ci lasciamo andare. E invece il peperoncino è sempre vero, è hot, vero, senza filtri, diciamo. Quindi, insomma, ci scalda il cuore, l'anima e pare che abbia anche un che, un qualcosa di afrodisiaco. Dicono, dicono. Io me lo mangio. Sì, allora, diciamo, ho preso tantissimo questa iniziativa, perché mi ricorda molto le mie origini, perché appunto sono calabrese e quindi è un prodotto tipico della nostra terra. Però mi ha molto sorpreso vedere oggi tante diverse varietà che non avevo riscontrato, perché appunto le varietà calabresi sono chiaramente limitate. Ci sono tante altre varietà come quelle peruviane, che ho avuto l'opportunità in modo di scoprire oggi. E quindi, insomma, anche quello di assaggiare e conoscere diversi prodotti che è possibile fare con il peperoncino, appunto, dai patè alle marmellate, alle confetture. Quindi, sì, insomma, è un piacevole viaggio alla scoperta del mondo del peperoncino.